Siamo già a Krakow, e ora noi ci nascondiamo, perché arriveranno quelli da Welcome to Darko. No, facciamo così. Vado sopra e mi riprendo il peak della breccia col morto. No, facciamo così. Vado sopra. Alla fortezza. No, a Welcome to Darko. Esatto, tipo gelateria più che altro. Ma sembra qualcuno. Dovrei spararti. Se corre non ha senso, direi che rischiere un one-up inutile. Oh, tanto che sono alla porticina sotto, quindi siamo in due più o meno. Oh, c'è uno alla breccia! Ho visto. È già passato o è sempre alla breccia? Allora, un è passato e un è alla breccia, però non ho più visuale. Sono in due. Eh, sono grossi. Granella. Stanno qua sotto. Stanno qua sotto. Si, 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 si. Uno è sotto. Questo qui ha preferato il fuggio di puttana. Ho rotto il braccio. Un è sotto. Eh, uno è sopra. Tu sei sotto? Eh, sì, sono qui alle scale. Uno è morto, uno è morto, uno è morto. Guarda quello sotto. Arriva. È sotto, eh. Chiudo qui. Pengo io le scale. Se vuoi tiro un bait, prova a curarmi. Ok. Stai nascosto dentro, eh. Si, 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 si. Mi puscia, mi sa. Mi ricuro. Urca, è da te, è dentro. Porco. Oddio. Oddio, c'è un altro ancora. Ma che cosa ho fatto? Ma che cosa ho fatto? Mica, che pre... Oddio, c'è un altro ancora. . Sì oh 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 credo sia ma pensiero oh 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 Sì 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 Devo uscire sicuramente con roba più pienotto, però, 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 però ero già pieno, abbastanza beso, quindi va bene così, siamo felici così. Grazie a tutti.